E' questo il deposito di Autolinea Toscane dove il bimbo di tre anni dimenticato sull'autobus della scuola sarebbe rimasto dal mattino fino alle 15 del pomeriggio. Il piccolo di appena tre anni frequenta la materna Gianni Rodare di Ponte alle Forche nel comune di San Giovanni Valdarno. Il pulmino doveva portarlo a scuola ma è stato lasciato fino alle 15 nel mezzo all'interno di questo deposito. Autolinea Toscane è l'azienda che dal 15 settembre 2017 prevede apposite corse dedicate all'infanzia per una convenzione con il comune. All'interno del mezzo c'era anche personale della cooperativa Marameo di Montevarchi che deve occuparsi dei bambini. L'allarme è scattato quando la mamma è andata a scuola per riprendere il figlio e non l'ha trovato. Il piccolo è stato trovato nel bus ancora assicurato al sedile con le cinture di sicurezza. Una concessione di servizio che ovviamente è stata fatta a seguito di regolare gara, tra l'altro un concessionario importante che opera bene. Noi non avevamo avuto assolutamente problemi di questo tipo mai fino ad oggi e che a sua volta poi ha un rapporto, credo di subappalto, comunque è un regolare rapporto con la ditta invece che fornisce gli accompagnatori, una cooperativa mi sembra che fornisce gli accompagnatori perché il servizio di accompagnamento sugli scuola bus per l'infanzia è obbligatorio per legge e quindi è un servizio che deve assolutamente essere fornito. Stiamo, gli uffici in particolare stanno valutando quali sono in termini contrattuali le azioni che possono essere intraprese, degli strumenti che si possono utilizzare appunto rispetto al concessionario del servizio e le eventuali conseguenze. L'operatrice della cooperativa è stata sospesa sul caso, indagano i carabinieri.